Buonasera dalle Scampia League, siamo qui con Emanuele Stasino, tutti e due ci scusiamo per la tenuta. No io no, più che tutto. Va bene, comunque premiamo Emanuele Stasino per la settimana scorsa, è stato il migliore della settimana. Questo è per te Emanuele, cosa ci dici per la vittoria di questo premio? Ovviamente fa sempre piacere ricevere un premio. Devi dire a tua moglie, allora se fa piacere. Anche se non vogliono essere frasi fatte, ma un premio va sicuramente alla squadra, perché io realizzo solo oppure finalizzo il lavoro che fanno perché siamo fortissimi. Ti assicuro che addirittura tu nella mia squadra lo vinceresti facilmente. Speriamo che questa settimana, addirittura tu, speriamo che questa settimana sarai proprio il super flop.